Dopo i pochi casi registrati ieri, frutto anche del fine settimana dove vengono processati meno tamponi, tornano a aumentare i positivi in Abruzzo, ma sicuramente con uno sguardo più puntuale sull'andamento della pandemia. Sono 121 i casi da Covid-19 registrati nelle ultime ore in Regione, di età compresa tra 1 e 93 anni, che portano il totale a 84.954 d'inizio emergenza sanitaria. Di pari passo aumenta però anche il numero dei tamponi. Sono infatti 2.986 quelli molecolari e 13.365 i test antigenici rapidi, che portano il tasso di positività allo 0,74%, quindi sotto quello medio nazionale. Crescono di 4 ancora per un totale di 83 coloro che sono in area medica, ma dopo quasi una settimana diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva e al momento sono 12, meno uno da ieri. Un'ulteriore discesa vede il numero di coloro che sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'ASL. Sono infatti meno 57, che fanno scendere il numero 2.792. Un sospiro di sollievo lo portano i guariti, che oggi superano i 100. Sono infatti 170 coloro che si sono negativizzati dopo il Covid-19 nelle ultime 24 ore, che fanno scendere il numero degli attualmente positivi a 2.887, quindi meno 54. Ancora una volta rimane Teramo la provincia più colpita, seguendo il trend delle ultime settimane, e conta più 56 persone risultate positive al virus nelle ultime ore. Poi l'Aquila con 23, cresce invece rispetto a ieri la provincia Teatina con 21 positivi e infine Pescara con più 9. Nella giornata di oggi purtroppo il numero delle vittime è 3, due riguardanti la provincia di Chieti, una donna di 88 anni e un uomo di 78, mentre il terzo decesso è avvenuto in precedenza e comunicato solo oggi dalla ASL.